Grazie mille. Io adesso passerei la parola all'ultimo intervenuto, al ex senatore Gianni Girotto, come dicevo prima, senatore della passata legislatura e già presidente della Commissione Industria, che penso possa fare un discorso svincolato dal fatto di avere la carica del senatore. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, svincolatissimo perché la mia carica di delegato dell'energia 5 Stelle deriva dal fatto che sono coordinatore del comitato di transizione ecologica, quindi io ho la delega del presidente Conte su energia, però è una carica totalmente pro bono, totalmente, completamente, assolutamente pro bono. Mi sono totalmente indipendente anche perché non ho nessun tipo di collaborazione di nessun tipo con il settore, quindi sono assolutamente, veramente svincolato, non mi sono ricandidato, non mi ricandiderò, quindi sono veramente svincolato. Detto questo, professor Fauri, lei ci chiede in pochi secondi cose che ci vorrebbero diverse ore, però sono note da molto tempo. Allora sulla autonomia differenziata noi avevamo già allarmato che tra i tanti aspetti molto problematici c'era anche appunto questo fatto che appunto adesso ogni regione, diciamo, sarà molto più libera, mentre su settori in cui l'infrastruttura e la programmazione con largo anticipo dovrebbe essere centralizzata. Io dico addirittura a livello europeo, anzi dico da tempo che è in Europa che si decidono i giochi, le direttive si fanno lì, i regolamenti si fanno lì, poi le nazioni membri sono obbligate a seguirle. Certo è che qualsiasi decisione politica sbagliata sulla programmazione viene pagata dal cittadino. Le cabine primarie costano milioni di euro, ci vogliono anni per realizzarle, tutte le infrastrutture collegate ugualmente ci vogliono tempo e denaro, quindi una programmazione sbagliata comunque la paga il cittadino. Io lo dico chiaro e tondo da anni, non c'è una volontà politica reale di fare la transizione ecologica velocemente soprattutto in Italia e le comunità energetiche rinnovabili lo dimostrano plasticamente. Quattro anni di vita ne sono state realizzate 200, tutte piccolissime, quindi veramente una cosa indicibile e per me che insomma sono un po' il papà una sofferenza totale. Ma queste dimostrano praticamente che da quattro anni tutti i partiti dicono bellissime, fantastiche, permetteranno un sacco di belle cose, ho provato all'unanimità, ma sono praticamente ferme. E questo è il metodo classico della politica per bloccare le cose dicendo che si è a favore. Pubblicamente si dice che si è a favore, però basta metterci qualche strato di bloccazia in più, con qualche strato di bloccazia in più puliti puliti, un lavoretto pulito pulito, si blocca praticamente tutto quanto, oltre ovviamente a un quadro generale molto incerto e con un quadro generale molto incerto sia il cittadino che le PMI che gli investitori naturalmente non vanno avanti. Ed è per quello che io dico sempre che bisogna seguire il denaro, follow the money. Quindi i grossi attori nazionali e internazionali sono quelli che hanno un'influenza sulla politica estremamente rilevante. Quindi anche un settore come le rinnovabili, che nessuno mette in discussione, hanno un prezzo di produzione più basso in assoluto, poi figuriamoci se teniamo conto dell'esternalità, e quindi permettono una maggiore competitività del sistema Italia, perché le imprese abbasserebbero un costo di produzione mediamente insomma abbastanza alto, e i cittadini avrebbero più potere di acquisto. Ecco, nonostante che le rinnovabili abbassino il prezzo dell'energia, siamo ai livelli che da due anni abbiamo 110-100 euro a megawattora, il doppio del pre-covid. Adesso naturalmente dobbiamo stare attenti a non passare da un estremo all'altro, perché l'Italia è un po' il paese degli estremi. Negli ultimi 12 anni siamo saliti a livelli marginali, abbiamo installato veramente pochissimo ogni anno, non si deve naturalmente fare l'errore di passare da un estremo all'altro. E quindi anche dall'anno prossimo, dal primo gennaio, che avremo il passaggio dal PUN al PZ, o comunque un sistema che andrà verso il PZ, anche quello andrà governato bene, e Arrera avrà voce in capitolo, anche se come sempre è il Parlamento che decide, il Parlamento dovrà stare molto attento a quello che farà Arrera, perché ribadisco, Arrera deve rispettare il quadro normativo, non deve fare politica. Io ho detto tante volte negli anni passati che Arrera esondava, perché faceva praticamente scelte politiche. Ora, il Covid, se fosse ancora stato necessario, ha dimostrato che si deve, sia a livello nazionale che europeo, io direi addirittura a livello mondiale, ci dovremmo organizzare più unitariamente. Siamo ormai un villaggio globale, da tempo si parla di un mercato unico dell'energia europeo, e io sono tra i sostenitori, ovviamente c'è ancora una volta un problema di infrastrutture, e quindi degli interconnector tra un paese e l'altro, però è una materia su cui lo Stato, il pubblico deve essere più presente, a meno che non vogliamo lasciare fare tutto al mercato. Ma il mercato, direi, ha dimostrato parecchie volte che è guidato da interessi economici che troppo spesso rendono cieco addirittura l'investitore stesso. Ora, io vorrei chiedere, voglio porre all'attenzione di tutti, che appunto da due anni abbiamo, mentre che abbiamo un TTF del gas a 22 euro a megawattora, abbiamo un PUN che da due anni è sui 110 euro a megawattora. Abbiamo i bilanci dei produttori che sono in fortissimo extra profitto, le banche in fortissimo extra profitto anche grazie all'aumento dei tassi che c'era stato, e quindi i mutui hanno cubato molto di più, com'è possibile che non siano state tassate? Com'è possibile che non siano state tassate? Allora, le PMI, le famiglie, gli operai sono estremamente tassati. Com'è possibile che questi grandi operatori abbiano potuto cubare enormi extra profitti senza essere tassati? E direi che questo è un segnale inepiducabile. Questa mi sembra un'ottima introduzione per l'ultimo giro, perché purtroppo noi siamo rimasti in seve, perché la senatrice... Grazie, grazie ancora. L'ultima parola... Sì, se dovete scollegarvi, siete in trenno, lo capisco. Tra poco chiudiamo. Lascio l'ultimo intervento all'ex senatore Girotto, così chiudiamo, perché siamo anche fuori di diversi minuti per la sessione successiva. Prego, ex senatore Girotto. Sì, aumento di produzione. Non bisogna parlare di produzione, bisogna parlare di potenza installata, perché in un anno in cui è piovuto moltissimo, e io ho l'idroelettrico che ha prodotto moltissimo, il merito non è della politica, ma è di Giove Pluvio, che ha fatto piovere di più. Come negli anni passati che c'era la siccità, l'idroelettrico ha prodotto pochissimo. Se l'anno prossimo pioverà poco, l'idroelettrico produrrà pochissimo. Per cui non bisogna parlare di produzione e mettere tutto quanto in un calderone, ma bisogna parlare di aumento di potenza con le singole tecnologie. E negli ultimi anni, il grosso del piccolo aumento di potenza installata è stato dovuto al 110, perché grazie al 110 si sono installati diversi giga di fotovoltaico che altrimenti non si sarebbero installati. Detto questo, dobbiamo parlare sempre e ancora di autoproduzione e di autoconsumo, perché aiutano fortemente a ridurre la necessità di nuove infrastrutture. Io ieri ho fatto un video proprio sulle infrastrutture, perché il discorso del dispacciamento è un discorso tecnico non eliminabile, quindi bisogna andare, siccome tutti vogliamo andare verso le rinnovabili, o perlomeno a parole, bisogna ridurre il dispacciamento e questo si fa con autoproduzione bar autoconsumo. Ma questo si fa se c'è un'ampia opera informativa e di accompagnamento verso la società, perché cittadini e PMI semplicemente non si fidano più, semplicemente non si fidano, perché sono state fatte negli ultimi anni troppe operazioni retroattive, dallo spalma incentivi del 2016 al super bonus, che in pratica è stato retroattivamente sconvolto. E quando si fanno cose retroattive, semplicemente, cittadini, PMI e investitori non si fidano. sul nucleare, io la dico, Transhan ha deciso, a livello mondiale si è già deciso, perché anche lì, se andate a vedere la potenza installata, da vent'anni è in calo, a livello globale, la potenza installata è in calo, sono dati super pubblici, costa di più, non è sicura, non esiste una tecnologia sicura, soprattutto anti-errore umano o peggio, sabotaggi, perché bisogna tenere in considerazione anche sabotaggi, o anche molto più banalmente situazioni così molto simpatiche come quelle in Ucraina, dove ci sarebbe un esercito che ha occupato una centrale nucleare, preghiamo, non so chi, pregate chi volete, che non facciano chissà che cosa con quella centrale nucleare. Tra l'altro, gli SMR, se uno va a vedere anche lì cosa dice la tecnologia, il costo unitario per me, giovattore, giovattore, aumenta, perché l'impianto è piccolo, mentre la tecnologia, la tecnologia nucleare è fatta che più fai grossi impianti, più il prezzo si spalma e quindi hai un costo a megavattora che si abbassa. Ultima cosa, e l'avete appena detto, facciamo un convegno sul nucleare. Questa è la provocazione che ha avuto veramente effetto del senatore Potenti, ha già scaldato. Sì, io chiudo con questa cosa, da 12 anni dico a tutti i convegni, troppi argomenti, troppi argomenti, si parla di troppe cose, non si approfondisce nulla, non si risolve una cosa. I convegni vanno fatti con due domande precise, secche, superperimetrate, a cui non ci si può arrampicare sugli specchi, ma bisogna dare risposte precise, dicendo l'articolo 4,5 fa a questo effetto, cosa intendete fare per risolverlo? Quindi, i convegni vanno fatti su questioni superdelimitate, altrimenti si parla di un sacco di cose, io ho fatto centinaia di convegni, di convegni, ci si trova sempre d'accordo con i colleghi, chissà perché si è sempre d'accordo su tutto, perché si sta troppo su generico. La mia preghiera e il mio auspicio è che si facciano appunto convegni super mirati in maniera che non ci si possa... Ne faremo uno, appunto, specifico, solo soltanto su un unico punto che è quello del nucleare, perché quello crea molte discussioni e soluzioni diverse apparentemente. Grazie a tutti.